Se qualcuno pensa che il fumetto sia morto, si sbaglia. La carta colorata, che prende vita con storie di personaggi ormai entrati nell'immaginario collettivo, è viva più che mai. È tornata a Crotone, presso la Casa della Cultura, la terza edizione della Kermess Musica e Fumetti, stagione concertistica all'era della Magna Grecia, che vede l'organizzazione della società Beethoven-Hakam, scuole e appassionati di fumetto, presso la Casa della Cultura. Le chiedo, qual è lo stato di salute del fumetto in Italia? Lo stato di salute del fumetto in Italia, come tutte le editorie che riguardano i libri e la letteratura, non credo che sia proprio floridissimo. Certo resiste, però non credo che sia. Non è certo quello lo stato degli anni 80, degli anni 70, dove si leggeva tantissimo, dove testate come Topolino, l'Intrepido, vendivano anche 500-600 mila copie alla settimana. Non credo che siamo più a quei livelli, purtroppo. Quanto riguarda invece i disegnatori dei fumetti, secondo lei oggi c'è un ricambio generazionale? Il ricambio generazionale c'è sempre stato, però il fumetto è una cosa che ha dei canoni ben precisi, non è che lo si può rivoluzionare completamente. C'è sicuramente un ricambio generazionale, c'è sicuramente disegnatori che portano cose nuove, però non sempre il mercato è capace di recepire le novità, perché le novità di solito vengono recepite quando vengono dalle grandi aziende, se vengono invece da aziende magari più piccole o aziende che magari sono collocate in altri settori, vengono recepite con più fatica. E secondo lei in conclusione le chiedo qual è il personaggio che resiste magari oltre Tex? Io credo che forse il personaggio che resiste sia Topolino in Italia insieme a Tex e in parte anche Asterix, sono questi personaggi che resistono al tempo. Forse i supereroi invece sono un po' scaduti, lo stesso Diabolic che pur resistendo non credo abbia più gli appassionati in un tempo. Dylan Dogg è sceso in maniera abbastanza repentina, però Dylan Dogg secondo me gli autori molto bravi avevano fatto un errore, lo avevano contestalizzato negli anni Ottanta, quindi poi passarlo all'epoca di oggi è poco credibile. Dylan Dogg oggi dovrebbe avere più di 70 anni e non potrebbe essere più un giovane, non potrebbe essere più uno che... quindi secondo me forse per rivitalizzarlo lo dovrebbero riportare all'epoca degli anni Ottanta come un fumetto un po' vintage, fra virgolette, però più credibile perché non è credibile che Dylan Dogg nel 2024 possa essere ancora giovane, no? Diciamo che sta crescendo, ecco, il fumetto in Italia e in libreria ancora soffre, insomma, non è molto seguito. Vendono soprattutto i fumetti manga e va benissimo. Non riescono a diffondersi come meriterebbero, per il valore che esprimono intendo. In conclusione le chiedo, lei in quale personaggio in tutti questi anni si è rispecchiato di più? Lupo Alberto, che è questo lupo innamorato della gallina Marta e mia moglie si chiama Marta, infatti, e io mi chiamo Alberto. Senta, oramai questo connubio a crotone tra musica e fumetto con Vinge? Eh beh, probabilmente perché siamo partiti, noi con la musica ovviamente prima siamo partiti, e poi ecco, questa associazione, perché secondo me per due motivi fondamentali, perché la maggior parte degli artisti, dei fumettisti, sono anche musicisti nel senso amatoriale della parola. Però loro, per esempio, ieri sera abbiamo avuto uno dei fumettisti che ha suonato nella nostra orchestra, molto bravo, fra le altre cose, il maestro Mottura, per esempio. E quindi loro sentono molto quello che è il movimento, il ritmo stesso di quello che dipingono. Perché loro nel dipingere pensano già ad una forma di movimento, poiché la musica fondamentalmente è movimento, quindi l'associazione delle due idee credo che vada di pari passo. Cosa dobbiamo aspettarci allora per la quarta edizione? Eh beh, ci stiamo pensando molto su. Intanto per esempio, ieri sera abbiamo avuto un nucleo orchestrale in formato ridotto, diciamo, adatto alle musiche che facevamo. Per l'anno 21 invece stiamo ipotizzando delle cose veramente più grandiose, ecco, dove mettiamo insieme la loro esperienza artistica musicale, con la loro esperienza artistica pittorica, in questo caso perché è una pittura la loro, in maniera diversa, ma una pittura. Insomma, ha specialmente ieri sera, per esempio, uno dei personaggi degli artisti che noi abbiamo quest'anno, che è un futurista, e ha realizzato delle cose veramente stupende. E lui pensa già delle produzioni particolari che noi cercheremo di associare. E' stato un nuovo inizio, perché fino a quel momento avevo disegnato i fumetti. Io sono Paolo Lottura, fumentista della Disney, disegno Topolino, Paperino, e qua con me ci sono... E' il Sato Reala, invece, sono disegnato le opere, ho disegnato Zangolo, ma non solo, forse lo spazio. Allora, prima domanda, chi legge i fumetti, per esempio? Allora, prima domanda, chi legge i fumetti, per esempio? Allora, prima domanda.